Una vacanza gratuita di una settimana sul modello della vacanza del sorriso per i medici, infermieri e operatori sanitari impegnati ogni giorno in prima linea nella lotta al Covid-19. Sono eroi e grandi professionisti a cui lo staff della vacanza del sorriso ha deciso di manifestare stima e riconoscenza offrendo una vacanza settimanale gratuita su idea del sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta e in collaborazione con gli operatori turistici di Marina di Camerota che hanno proposto il loro coinvolgimento nel progetto. La vacanza del sorriso è una manifestazione di solidarietà che ha il fine di ospitare nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche e rispettive famiglie provenienti da tutta Italia per una vacanza settimanale gratuita all'insegna del relax, della spensieratezza, della ricreatività e dell'amicizia. Su questo modello sarà organizzata anche la vacanza con soggiorno settimanale gratuito per i medici e gli infermieri impegnati nella lotta al coronavirus e per le loro famiglie. Un soggiorno da trascorrere al mare o nei borghi medievali, in hotel, villaggio, agriturismo, casa vacanza, comprensivo di pensione complete, attività ricreative ed escursionistiche che si potrà svolgere presumibilmente a Marina di Camerota e nelle località limitrofe. Ancora da definire i dettagli della vacanza e anche il periodo in cui si svolgerà, anche e soprattutto in relazione alle regole governative e alle modalità di sicurezza. Chi vorrà condividere il progetto sostenendolo e collaborando con lo staff della Vacanza del Sorriso